La Camera di Commercio di Cosenza è stata ad ospitare insieme Energia, il Giro dell'Italia per promuovere le comunità energetiche rinnovabili. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il gestore dei servizi energetici Union Camere porta nel Mezzogiorno d'Italia l'evento per affermare su larga scala il modello delle CER, una rivoluzione nella produzione e consumo di energia. Ai lavori ha preso parte in collegamento il ministro Gilberto Pichetto Fratin, convinto della bontà del progetto che crea le condizioni per mutare l'approccio da parte di cittadini e imprese che diventeranno consumatori e produttori. Grazie alle CER noi stiamo intervenendo sulle modalità di approccio da parte dei cittadini, da parte delle imprese, nel senso di poter diventare produttore e consumatore contemporaneamente. Quindi ha una portata di cambiamento delle abitudini e dell'approccio culturale tutto questo. Alla consulente del ministro Roberta Toffanin spetta il punto sull'attuale contesto energetico e sulla produzione di energia pulita in Italia. L'importante è perché permettono di mettere in rete e virtualmente chi produce energia con chi la consuma oppure chi la produce e la consuma con chi la consuma soltanto. Quindi anche cittadini che non hanno la possibilità di farci l'impianto fotovoltaico possono beneficiare di incentivi per la propria energia. Della necessità di coinvolgere ancora di più comuni e imprenditori in questa rivoluzione delle comunità energetiche è convinto il presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto. In alcuni casi le comunità energetiche possono servire a risolvere e a ridurre le spese energetiche anche per gli edifici pubblici e possono poi produrre attraverso le rinnovabili energia gratuito a basso costo per le famiglie che insistono nelle zone dove insistono gli edifici pubblici. Alle parole del governatore fanno ecco le dichiarazioni dell'assessore regionale, Rosario Varì. Il governo regionale si sta muovendo in queste reazioni, a dire il vero lo fa già da tanto tempo perché siamo dotati di una legge regionale sulle comunità energetiche e le stiamo promuovendo. Abbiamo istituito un portale Calabria Energia nell'ambito del quale si possono trovare tutte le informazioni necessarie per poter costituire le comunità energetiche che non dimentichiamolo mai apportano dei vantaggi ambientali, economici e sociali considerevoli. L'obiettivo di Insieme Energia è far crescere la consapevolezza tra tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici delle potenzialità di questo innovativo strumento che può determinare l'abbattimento dei costi e dell'impatto ambientale, la sicurezza nelle forniture e il superamento della povertà energetica. Le qualità energetiche sono importanti perché consentono a chi vi partecipa di conseguire benefici economici, la riduzione del costo della bolletta, benefici sociali, è uno strumento molto importante per contrastare la povertà energetica e per la collettività anche benefici ambientali. Il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algeri, sottolinea infine l'importanza, soprattutto per le imprese del mezzogiorno, di valorizzare e diffondere su larga scala il modello delle CER. Io innanzitutto ringrazio il ministro che questo tour, questi cinque tour che sta facendo in Italia, per il mezzogiorno l'ha destinato alla nostra Camera di Commercio di Cosenza. Per noi è un motivo d'orgoglio, avete visto la grande partecipazione che c'è sia del mondo delle imprese ma anche dei comuni, di tutti gli enti pubblici, quindi c'è una necessità, è il tema attuale, è il tema anche del domani. Questa Camera di Commercio con il progetto Elena ha già da anni messo insieme comuni e imprese e quindi esiste già una rete. Oggi poterla far funzionare anche con il CER, quindi con i finanziamenti, per noi è un'ottima opportunità. Grazie per la visione!